non sono tutte uguali le discese agli inferi ognuno sa come soffrire gestire i sette vizi capitali per avere bella collocazione minosse farà ruotare la coda caronte tonante con la congiuntivite in ogni caso io non scriverò nulla di nuovo di meno di meglio in una giornata vuota mangio un cioccolatino ripieno di vuoto senza cioccolato per non sentire il vuoto dove assenti sono le ore vuote in penombra ok mille 11 7 66 55 33 32 13 11 Una, 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 una